ma stavolta spaventare il sospettato in pratica quello che voglio fare oggi c'è un progetto un unboxing andiamo a scoprire di che cosa si tratta si tratta e voilà forse si riesce già a leggere creative.com troviamo la busta questa è un'edizione speciale delle cuffie a urvana come si può leggere qui super x5 certificato andiamo ad aprire la scatola all'interno dovrebbe esserci anche qualcosa di speciale ecco qui il contennino intanto faccio notare che c'è isxfi.com è il sito ufficiale di queste nuove tecnologie della creative labs famosa per le sound blaster come potete vedere è proprio un unboxing reale e queste sono le cuffie ok ecco c'è una cosa che però mi sta preoccupando manca il dispositivo principale è il plus però non c'è altro la scatola non contiene altro la creative labs mi ha inviato le cuffie senza il dispositivo super x5 adesso adesso dovrò chiamarli per avere una spiegazione 먼저 non mediar nazare gli cinese molti brand le hanno le scatola Grazie.